Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa stupitosa puntata di L'Oletta Five Channel Allora, questo è un video unboxing, come avevo promesso tempo fa Vi faccio adesso un video dell'unboxing di che gioco ho comprato per la Playstation 4 Ta-da! Ed eccolo qua Per la Playstation 4 ho comprato Uncharted, tutta la saga Uno, due e terzo capitolo, ovviamente il quarto No, perché c'è già giocato e non c'è bisogno L'ho comprato su Amazon, la bellezza di Raga a 15€ Per poi scoprire che in realtà c'era gratis su Plastic Ma va bene, a prescindere che non è comunque la stessa cosa Ripeto, sto giocando col primo, Drake Fortune Che sono prendo tutto il tempo in mezzo alla giungla Il secondo tipo palazzi e il terzo è una specie di deserto Devo dire che fino adesso mi aspettavo meglio Però alla fine, lo so, siamo sempre nel 2015 ed è sempre e pur sempre il primo Più che altro non mi stanno piacendo le continue sparatorie C'è tutto un gioco incentrato su ammazzare i cattivi Cioè sì, io devo andare a scoprire Eldorado, giusto? Però è più i livelli per ammazzare i cattivi che proprio scoprire i tesori o le missioni Mio cugino mi ha detto il quarto comunque, dice sono belli tutti ma il quarto comunque è più bello Staremo a vedere, comunque ve lo consiglio Per chi piace questa saga Secondo passo, mi è arrivata la macchinetta della pressione Ecco Ovviamente Vediamo un po' se riuscite a tenere Mi è arrivata questa macchinetta della pressione Finalmente vera e digitale Perché ovviamente non gliela potevo prendere allora a casa E mi è costata, eccola qua, 25 euro Sempre su Amazon, ovviamente Devo dire che questa rispetto a quello mi è arrivata molto più in fretta Forse perché è una questione sanitaria, non lo so Perché su Amazon c'era scritto questa cosa degli articoli Che in base alle urgenze, diciamo Questo telefono oggi non aveva vendu E niente ragazzi, comunque vi avviso che appena posso Appena possibile, mi compro l'iPhone Anche a rate, non mi interessa Se puoi Ovviamente non ora Ma penso per Natale Quindi devo comprare l'iPhone Non mi è deciso Questo telefono me lo lascio per casa O comunque per vedere i video Vediamo un po' come funzionanza questa macchinetta Se più o meno è simile alla mia a casa Ok, manicotto Hai manicotto Vediamo un po' come è combinata Ve lo farò vedere ragazzi velocemente Perché purtroppo ho sempre poca memoria qua in questo telefono Comunque carina Ci vogliono le batterie, manicotto e cavetto Ok? Fatemi sapere sempre cosa ne pensate ai primati E ci vediamo al prossimo video unboxing In questa nuova casa Comunque E oggi è il primo giorno ufficiale Che metto le maniche corte Anche se fuori c'è abbastanza nuvoloso È molto rumido Infatti ieri ragazzi mi scoppiava la destra Nulla Grazie a tutti ancora per il sostegno E per i commenti Dagli e raga ce la faremo Non ho la tubercolosi Oggi mi sono fatta controllare Tutte le analisi E niente Ci vediamo al prossimo episodio Ciao Ciao